Buonasera, benvenuti a La Gomera. La Gomera che è il nome di un'isola e che è il nuovo film di un regista rumeno che noi qua al festival amiamo molto, abbiamo già presentato dei suoi film, Politist Adjective, Komohara e l'anno scorso Football Infinite e purtroppo le altre volte non era mai riuscito a venire con noi, da noi. Allora come certamente sapete visto che frequentate dei festival il cinema rumeno negli ultimi dieci anni è stata una delle forze emergenti del cinema europeo, dieci, quindici anni, sono venuti fuori molti nuovi registi e questo è uno delle punte di diamante caratterizzato da un senso di humor molto forte. La Gomera in realtà è a metà strada tra il thriller e il noir, direi di più un noir. Racconta l'avventura di un poliziotto rumeno che si chiama Cristi e che per una serie di disavventure, di imbrogli, di cose si trova a La Gomera irretito da una dark lady, da una sorta di fan fatale. E si trova a La Gomera soprattutto per imparare, infatti credo che il titolo internazionale, l'ho letto da qualche parte, potrebbe essere The Whistlers, i fischiatori, per imparare la lingua dei fischi che è una delle cose più esilaranti del film. Bene, vi presento il regista del quale vi ho parlato prima che è Cornelio Porunboiu e la protagonista femminile del film, Catrinelle Marlon, che è appunto la dark lady. La dark lady che si chiama Gilda, come quella famosa. Buonasera, parlerò in italiano perché conosco la vostra lingua. Innanzitutto grazie mille che siete così in tanti stasera per vedere questo capolavoro, lo posso chiamare così, perché è un film bellissimo. Rimanerò anche io in sala con voi per rivedere questo film e sentire le vostre reazioni. Che altro posso dire? Lascio il nostro regista che magari vi lascia qualche nota d'autore molto bella. Il mio personaggio è Gilda, questa fan fatale, è un po' il filo conduttore di questo film e una donna che imbroglia e fa delle cose. Poi di più non vi posso dire, si fischia tanto in questo film. Abbiamo imparato questo linguaggio che è molto difficile che si chiama El Silbo, un linguaggio che è riconosciuto dal patrimonio UNESCO e dal 2014. Un linguaggio che può essere magari usato da tanti noi oggi in un giorno dove siamo un po' mappati e schedati così non siamo intercettati e capiti da nessuno. Lascio la parola al nostro regista e vi ringrazio. A me piacerebbe sapere come ha scoperto El Silbo, come ha scoperto El Silbo. 10 anni fa ho visto un reportage di TV su Lagomera, sull'islanda, sulla gomera e parlavano anche appunto di questa lingua dei fischi e ho cominciato a documentarmi. Grazie mille che ci sono qui oggi. Non voglio parlare molto in quanto riguarda il film. Ho spero che il film si può parlare per se stesso. Spero, non voglio parlare anche alla fine del film. Ma, sì, vi ringrazio il rio. Ho spero che ti sia piaciuto e grazie per essere qui. Grazie, non mi piace molto parlare prima dei film perché trovo che un film parli da solo ed è il motivo per cui non mi piace neanche tanto parlarne dopo. Vi auguro soltanto buon viaggio e mi auguro che il film vi piaccia. Bene, grazie. Grazie Cornelio, grazie Catrinelle. Il film verrà distribuito in Italia da Valmin. e uscirà il 30 gennaio 2020. Buon divertimento.